Ben trovati amici, oggi siamo alla sede del Centro Studi Criminologici di Piazza San Francesco a Viterbo. Siamo qui per la presentazione dei nuovi corsi sulla sicurezza sul lavoro, presentati in anteprima da noi e autorizzati dalla Regione Lazio. Siamo con il direttore dell'area formazione del CSC, dottor Giampiero Lattanzi, ben trovato dottore, e con l'ingegner Marco Proietti, responsabile di quest'area che andremo a presentare. Dottor Giampiero Lattanzi, l'area formazione professionale in che cosa consiste e quello che offre? Sì, l'area formazione professionale del Centro Studi Criminologici, che sono ormai due anni che è attiva, nasce per venire incontro alla sempre maggiore esigenza di qualifica e di formazione nel mondo del lavoro. Offre infatti oggi un ampio ventaglio di offerte formative, a cominciare dalla formazione in apprendistato, per continuare a quelli che sono i corsi di qualifica professionale, che ovviamente è autorizzato dalla Regione Lazio. In questo momento ce ne sono ben sei attivi presso il centro e da oggi appunto partiranno i nuovi corsi sulla sicurezza sul lavoro. La caratteristica di questi corsi, ovviamente anche loro, autorizzati dalla Regione Lazio, è un'importante aggiunta a quelle che è già l'offerta formativa del Centro Studi Criminologici, sempre orientati alle aziende ma soprattutto ai lavoratori e ai professionisti, perché il Centro Studi Criminologici con questa area ha scelto proprio di venire incontro a questa sempre maggiore richiesta. Grazie, l'ingegnere Marco Proietti. Parliamo nello specifico di corsi sulla sicurezza sul lavoro autorizzati dalla Regione Lazio. Sì, buonasera. Diciamo che i corsi rappresentano il ventaglio di tutta l'attività della professione sotto il profilo della sicurezza e partono dalle famose 120 ore che sono quelle obbligatorie per legge ai fini dello svolgere dell'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto riguarda i cantiari edili e passare poi ai corsi previsti per lo svolgimento dell'attività di responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione presso le aziende. Quindi diciamo il corso fondamentale è quello che parte dalle 120 ore. Nelle 120 ore noi raggrupperemo anche tutte le altre attività professionali che fanno parte della formazione. Quindi faremo i corsi per quanto riguarda l'addestramento all'antincendio, i corsi per quanto riguarda gli addetti al primo soccorso e all'interno sempre di questo pacchetto ci saranno gli aggiornamenti professionali sempre per quanto riguarda il datore di lavoro, l'RLS e tutte le figure professionali che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro. Perfetto, noi ringraziamo innanzitutto il centro studi chiminologici che oggi ci ha ospitato, il dottor Giampiero Lattanzi, direttore dell'area formazione professionale e l'ingegner Marco Proietti, responsabile dei corsi sulla sicurezza e sul lavoro del centro studi chiminologici. Grazie.